dice che è successo perché fai sta faccia sono arrivati ai calci di rigore ovviamente parliamo di spagna croazia finale di nation's league per l'assegnazione di un trofeo che in tanti snobbano ma che a me da italiano piacerebbe tanto vincere sa che ne passerà de tempo ma sono qui ovviamente per reagire in diretta ai calci di rigore ho fatto quella faccia all'inizio perché questa è la terza volta che registro il contenuto di questa partita si ci ho provato ai 90 regolamentari a pizzica il gol in live ci ho provato ai supplementari c'è stata trippa per gatti sapete per quale motivo perché sapevano che ero stanco che avrei preferito andare a letto presto stasera e quindi mi dovevano portare la partita ovviamente fino ai ai calci di rigore ma vi dirò di più perché non finisce qua io spero io spero vinca la croazia non per qualcosa ma perché mi piacerebbe vedere chi alzare un trofeo cosa che ho visto fare alla spagna ovviamente e proprio per questo motivo è considerata la statistica che la croazia nelle ultime uscite ai calci di rigore ha fatto sempre molto bene preparatevi che vince a spagna bentornati e ben ritrovati allora vi chiedo semplicemente di lasciare mi piace su questo video per continuare a supportare i miei contenuti calcistici vi ricordo che gratis non costa assolutamente nulla mi fate contento vi porto tanti altri contenuti sul mondo del calcio potete iscrivervi se volete attivare la campanella per ricevere sempre le notifiche sul cellulare quando pubblico qualcosa così non vi perdete più niente ma ricordatevi che ho due canali di calcio sul secondo canale youtube tutti i giorni bombe di calciomercato almeno un episodio giornaliero a volte due altre capita anche tre detto questo anche canale extra calcio ovviamente oggi abbiamo parlato di formula 1 sono partiti un po' dei smadonnoni tra un quarto e un quinto posto se vi interessa canale in descrizione durante il video compariranno qui se comincia croazia mamma mia vlasic ragazzi che rigore che ha tirato complimenti ecco è difficile dire chi tecnicamente è più bravo nel battere i calci di rigore posso osare dire senza aver guardato chi ritirerà che c'è qualcosa in più la croazia probabilmente non è solo un dato statistico è proprio perché probabilmente tecnicamente c'hanno qualcosina in più non vorrei dire una una castroneria staremo a vedere giuselu giuselu ragazzi tra l'altro nuovo acquisto del real madrid non so se sapete la storia di giuselu non è un giovanissimo di primo pelo come direbbe il buon fabio però insomma tira o sbaglia 100% ma se sciavatta qua se prevede il rio ave milano ragazzi di quelli esagerated preparatevi che finisce al centodiciottesimo rigore otto volte i portieri devono rilegarci di rigore e alla fine probabilmente ne uscirà fuori un vincitore allora chi ha vinto la nation's league e portogallo prima edizione seconda edizione la francia forse me lo scrivete qua sotto nei commenti tanto mi scordo sempre mi pare che sì detto questo secondo calcio di rigore per la croazia e uno dei migliori tiratori se non ho visto male per per la croazia è proprio epic brozovic vediamo ammazza è partito subito sbaglia quando sbaglia pazzesco ci vuole comunque freddezza per battere i calci di rigore comunque una finale di un trofeo quindi non ha dato manco un attimo di tempo portiere completamente spiazzato palla da una parte portiere dall'altra adesso vediamo a chi toccherà per per la spagna ovviamente sentivo la statistica del portiere della spagna che col club non è che para poi così tanti calci di rigore con la nazionale ogni tanto insomma si fa mamma mia rodri ma rodri è una belva ragazzi miei stesso angolo ovviamente dove ha battuto brozovic portiere ovviamente altro portiere dell'altra squadra si è butta dall'altra parte ma è una questione di intuizione comunque i calci di rigore sono così se non te butti prima a meno che non te fanno il cucchiaio che rimane fermo io ne so qualcosa la difuso della roma che lo pari terzo tiratore ragazzi questo è il top dei top top of the tops ovviamente e mi piacerebbe soprattutto per lui dice che c'è bisogno darsi alla nations league modric siccome ha vinto poco mi farebbe veramente piacere ecco e tu ti è mi sa che tira a sinistra no e invece ha ingannato ma ha ingannato pure a me no non mi ha ingannato probabilmente mi sarei buttato là io ha buttato l'occhio a sinistra alla destra del portiere e poi ha tirato all'opposto il portiere ci è cascato con tutte le scarpe ci è cascato vabbè ma lui può forse era un po' più centrale ma che lo guardo meglio ha le qualità le capacità per aprire per chiudere ragazzi cioè un giocatore di questo tipo veramente può fare qualsiasi cosa merino se non me sbaglio sì è merino lana merino vediamo o sbaglia sto sinistro non vedo bene mamma che collo ragazzi miei che avevo detto che la spagna era inferiore alla croazia mamma mia mamma mia che razza dei nazionali che razza dei qualità che razza dei piedi che razza dei freddezza perché poi è pure una questione di freddezza ha fatto una sorta di mezzo passetto in più ragazzi una sorta di mezzo stop con la coda dell'occhio ha visto il portiere che partiva ha dovuto solo piazzarla dall'altra parte ce ne vuole per batte calci di rigore e così eh siamo 3 a 3 ovviamente la croazia va avanti con il suo quarto penalty aspetta che non vedo chi è non lo so se segna eh si ma non non credo che segna lo ho detto non vince la croazia comunque sono un gufo ma si vedeva da come era partito ragazzi che non l'avrebbe troppo depotenza troppo frettoloso si ha indovinato l'angolo ha fatto una bella parata che avevo detto su Rai Simon spiti plin 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 il piede è giusto ma c'aveva un piede dentro non c'aveva nessun piede sulla linea la prende col piede ma vabbè non voglio far domande c'ho sonno non mi ricordo neanche il regolamento ragazzi ma ha fatto una bella parata pensavo che l'avesse parata con i mani figurate l'ha presa con i piedi Asensio mamma che gol che gli ha fatto ragazzi miei mamma che giocatore ragazzi ci vuole coraggio per tirare i calci di rigore là sotto l'incrocio dei pali ci vuole coraggio ci vuole coraggio allora due possibilità per la Spagna se la Croazia sbaglia il prossimo vincono se no poi ovviamente c'è una possibilità in più per la Croazia no vediamo quello che fa la Croazia scusate e tira Perisic eh se segna poi lo deve parare al portiere ovviamente della Croazia le possibilità ce ne hanno Perisic intanto mamma mia anche su calcio di rigore è arrivato a Milan è arrivato a Milan e me lo auguro arrivati a sto punto perché preferirei la Croazia l'ho detto non c'ho niente assolutamente contro la Spagna ci mancherebbe però sarei contento per la Croazia qualora vincessero vediamo chi tira non c'ho presente che tiratore si può presentà vediamo mi ricorda Mancini mi ricorda vediamo eh Mancini Mancino o sbaglia quando comunque raga mister gufo per eccellenza ho detto quando mi sbaglio non mi sbaglio mai vabbè ma dai ha tirato centrale ha tirato sopra la traversa ragazzi miei vabbè io vabbè non voglio di niente perché poi i tiratori scelgono loro so problemi loro restamente parlando mo non è che come quando giochi a poker dice che carte sono rimaste che giocatori erano rimasti che potevano tirare il calcio di rigore come quinto evidentemente di meglio non c'avevano vediamo perché mo la Croazia ci crede che andreva questo è palesemente che andreva vediamo eh se è fatto parare vabbè ma là se le pirla vabbè allora la volete perdere ragazzi allora la volete perdere e mo vince la Spagna allora dai a meno che non veramente non si verifica arrivare Milan è buono piedi sulla linea ma mi sembrava più quello di prima che non c'aveva i piedi sulla linea quello che gli ha parato vabbè vediamo ultimo calcio di rigore probabilmente lo tirerà al portiere chi è? osegna 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 più qualità mo manna sai dove mo manna sai dove no è partito male mamma che gol che ha fatto la Spagna è campione la Spagna è campione ragazzi la Spagna vince la Nations League alla prossima con un nuovo video ciao 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 Grazie.